Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video ed oggi voglio provare a spiegarvi e a consigliarvi sul come scegliere il vostro MacBook Pro Da quando Apple ha presentato i nuovi M1 Pro ed M1 Max e di conseguenza il nuovo design da 14 pollici a 16 pollici si è generato un po' di confusione sul mercato o meglio c'è da fare un po' di chiarezza e da spiegare con un po' di chiarezza quale modello e processore è più adatto a determinati tipi di utenti In molti hanno criticato la scelta di Apple di avere dei processori così costosi di avere un Max Power, quindi la configurazione più costosa parecchio costosa, quindi ad un costo, ad un budget parecchio elevato ma è da considerare che Apple questi prodotti le ha realizzati per un mercato specifico che nel particolare è dedicato al mondo dei professionisti Quindi non c'è tanto da dare la colpa ad Apple se ha fatto delle scelte di mercato in realtà le ha realizzato dei prodotti destinati a delle categorie differenti Stesse categorie che nell'anno precedente, quindi nel 2020, si sono accontentati tra virgolette delle nuove tecnologie che però erano indicate ad un altro tipo di mercato Quindi con questo video voglio provare a fare la mia chiarezza su questo concetto Ho preso un po' di appunti ed ho fatto un'analisi focalizzato su tre parametri nello specifico e tre categorie nello specifico Così andando un pochino a meschiarle è cercare di trovare la configurazione corretta, adatta e da consigliare ad ognuno che faccia parte di questi ambiti quindi di questi scenari, chiamiamoli così I parametri di riferimento su cui mi sono basato sono la portabilità perché prendo in considerazione in questo video tutti i modelli pro attualmente disponibili sul mercato Quindi parliamo del 13 pollici, del 14 pollici e del 16 pollici In realtà il primo con gli altri due ha realmente poco di pro da condividere ma ha tantissimo da dare Per questo voglio inserirlo in questa categoria perché ci sono tutta una serie di... tutta una classe, una fasce di persone che vuole lavorare con una macchina targata pro e che porta con sé determinati pro e per questo ho voluto inserirlo Spero che si sia capito quello che ho detto sono un po' confuso anche io delle parole che ho appena ripetuto Provando a riassumere anche se il 13 pollici è di una classe differente rispetto al 14 e al 16 che sono stati presentati ho voluto inserirlo in questa classifica, in questa categoria perché porta con sé tutto un altro mercato che è quello, adesso arriveremo, dedicato al mondo office quindi ho voluto comunque integrarlo all'interno di questo concetto quindi parlare della portabilità tra questi tre modelli perché secondo me lo ritengo piuttosto interessante anche per altri ambiti Poi un altro parametro è quello della potenza perché realmente distinguiamo in potenza con i tre processori che sono l'M1, l'M1 Pro e l'M1 Max ed il costo perché naturalmente in base alle configurazioni abbiamo dei costi totalmente differenti infatti farò un confronto tra la potenza e il costo quindi un rapporto potenza-costo per le categorie che sono gli ambiti di utilizzo l'home office produzione musicale e fotografica e produzione video e grafica queste sono le tre macro categorie che ho individuato ma andiamo ad analizzarne una ad una parliamo dell'ambiente home ed office home ed office è quell'ambiente dedicato agli utilizzatori più blandi di questi sistemi ossia coloro che navigano su web, scrivono documenti, fanno videochiamate, fanno call, fanno lezioni online perché anche studenti tranquillamente preparano presentazioni, documenti, scrivono libri insomma abbiamo tutto questo mondo che fa un utilizzo del sistema più leggero il primo dato il primo dato è quello relativo alla portabilità ora abbiamo naturalmente il discorso si basa con la questione portabilità sul form factor sul peso e insomma su questi due parametri quindi abbiamo un 13, un 14, un 16 viene da sé naturale in questo caso specifico per chi vado ad analizzare per l'utilizzo home e office letteralmente la portabilità proprio intesa nella maniera più semplice e naturalmente il 13 pollici vince la battaglia sul 14 e il 16 anche se il 14 è lì dietro, è dietro il 13 pollici quindi può essere considerato molto portatile il 16 purtroppo diventa importabilissimo almeno per questa categoria nello specifico il 16 pollici diventa davvero molto ingombrante anche perché considerate che insieme al form factor quindi alla dimensione in sé parliamo di tre pesi totalmente differenti il 13 è molto ma molto più leggero del 16 e del 14 avendo una batteria più ridotta rispetto al 16 è naturalmente più leggero andando avanti veniamo a quello che è il rapporto costo-potenza beh per questa categoria quella dell'home office vince a mani basse il 13 pollici con l'M1 il 13 pollici con l'M1 ha una potenza davvero esorbitante rispetto al costo ed è davvero consigliato lo consiglio a chiunque da considerare che io ho utilizzato M1 anche per tutte le lavorazioni dedicate al mondo video ho letteralmente lavorato ho fatto color su un M1 e mi sono trovato bene ho lavorato davvero bene quindi per la classificazione home office l'M1 vince a mani basse andiamo adesso e cominciamo con le due categorie i due scenari lavorativi dove c'è più bisogno di potenza ok e probabilmente sono i due scenari tre o quattro scenari in realtà dove Apple ha voluto puntare con queste nuove macchine la prima categoria o scenario che ho messo insieme è quella di crea musica e chi si occupa di fotografia dove hanno bisogno di potenza ma non così tanta e quindi parliamo un po' di portabilità ora in base allo scenario cambia totalmente il concetto di portabilità perché si comincia a scendere a compromessi ossia si scende al compromesso di utilizzare una macchina più performante ma un pochino più ingombrante e quindi la portabilità rientra nella proporzione probabilità potenza ho comunque lasciato lo stesso parametro per tutti e tre gli scenari ma in questo caso possiamo parlare più di rapporto tra portabilità e potenza piuttosto che la portabilità mera e propria perché poi altrimenti rimarrebbe come quella della categoria precedente dove il 13 pollici naturalmente vince perché ha una portabilità naturalmente più elevata e quindi un fotografo e chi si occupa di produzione musicale può trovare molto più comodo nel rapporto potenza-portabilità il 14 pollici e rispetto agli altri due in realtà siamo molto lì vicini perché questa scelta nello specifico in quella della fotografia nella particolare molte volte ci sono fotografi che hanno bisogno di macchine portatili con cui non solo scaricare le schede il materiale e lavorare le foto ma alle volte ci sono dei fotografi che li utilizzano proprio come monitor durante lo scatto e quindi probabilmente riescono a farsi carico e vorranno farsi carico anche del 16 pollici quindi della portabilità del 16 pollici per questo è tutto molto più vicino in questo rapporto anche il 13 pollici rimane superiore al 16 proprio perché è una macchina comunque molto leggera molto comoda da portare è più leggera del 14 pollici nonché un pochino più piccola e con un rapporto portabilità-potenza sempre elevato specialmente per questa categoria qui le cose rispetto all'ambito precedente cambiano un pochino di più perché se prima l'M1 come processore vinceva a mani basse sull'M1 Pro e l'M1 Max come rapporto costo-potenza qui comincia a cambiare un pochino quello che vedete da questo grafico è che l'M1 risulta più consigliato di un'M1 Max mentre io per questa categoria consiglio un'M1 Pro beh perché? perché l'M1 Max può essere considerato con delle prestazioni overkill cioè ha delle prestazioni davvero troppo potenti per questo utilizzo quindi non significa che non sia buono ma qua stiamo parlando di una serie di rapporti e di consigli che posso dare a queste categorie beh in questo caso l'M1 Max perde la battaglia verso gli altri due proprio per il rapporto costo-potenza perché l'M1 Pro in questo caso secondo me vince a mani basse su entrambe le categorie l'M1 è un po' meno potente è meno potente ma comunque ha delle prestazioni talmente elevate per queste categorie che me lo fanno consigliare naturalmente se state immaginando di voler avere dei consigli sulle configurazioni beh arriveranno subito dopo il terzo scenario come immaginato quello del videomaker quindi chi si occupa di videografi e di chi si occupa di grafica che può essere considerato anche chi fa motion graphics chi fa color correction chi fa grafica 3D questo è un altro esempio l'ho messo all'interno di questa categoria della grafica beh qui si ribalta tutta la situazione qui chi fa questo genere di lavoro prende carico anche della macchina più grande quindi va benissimo ed anzi probabilmente molto meglio un 16 pollici perché è una batteria più capiente e perché è uno schermo più grande e quindi si fa carico di questo problema del problema della portabilità e del peso a fronte della potenza e di quello che ne può realmente ottenere in cambio infatti subito dopo viene il 14 pollici che nel rapporto con la potenza perde perché è più piccolo ed ha una batteria che dura un po' in meno anche se può essere configurato allo stesso modo di un 16 pollici mentre il 13 purtroppo qui diventa troppo piccolo e nel rapporto con la potenza perde su questa categoria rispetto agli altri due processori realmente perde quindi rispetto agli altri due modelli purtroppo realmente perde anche se rimane una buona scelta per tutta quella fascia di amatori che vogliono fare anche video e anche grafica quindi per chi vuole iniziare può essere un ottimo inizio anche utilizzare un 13 pollici ma andiamo a vedere quelle che sono invece le CPU e le GPU qui come nella precedente abbiamo abbiamo uno schema piuttosto simile e ritorna lo stesso concetto di prima le prestazioni dell'M1 Max che come vedete non è vincitore da questa categoria sono overkill sono davvero tanta roba quindi se io dovessi consigliare nel rapporto costo-potenza perché ricordate sempre che questo dato che vi sto mostrando questo grafico che vi sto mostrando è il rapporto secondo me tra costo-potenza nel rapporto tra costo-potenza l'M1 Pro vince di poco rispetto all'M1 Max in realtà l'M1 Max per chi ha la possibilità è molto più che consigliato questo perché invece di avere 16 core di GPU ne ha ben 32 e quindi in tutte le lavorazioni come il montaggio video la color correction elaborazione grafica ma la stessa visualizzazione in tempo reale di grafica 3D beh lì vince a mani basse ma non stanno analizzando quel caso specifico ma stiamo analizzando una categoria un pochino più generica naturalmente come investimento l'M1 Max è una macchina che può durare molto più nel tempo o meglio può dare molte più soddisfazioni nel breve periodo mentre l'M1 Pro invece come concetto di rapporto costo-potenza secondo me è il giusto equilibrio tra il non spendere un'enormità e ad avere un giusto rapporto di potenza per poter lavorare ricordandoci sempre che l'M1 naturalmente in questo caso purtroppo l'ho declassato un pochino l'avrei voluto declassare un pochino in più in realtà l'ho provato non mi è andata di declassarlo troppo rispetto agli altri due ma su lavorazioni più complesse è naturale che perde in realtà la differenza sostanziale tra M1 Pro Max e l'M1 special modo quando si va a fare montaggio è che gli M1 Pro e Max hanno dei core dedicati esclusivamente al coding e decoding dell'H264 dell'Evec e del ProRes questa cosa li rendono davvero molto potenti perché lasciano liberi tutti gli altri core sia CPU che GPU da notare che i core di CPU quindi il processore in sé la CPU sia nel Pro che nel Max sono uguali quello che varia tra Pro e Max sono i core della GPU quindi la parte grafica dove nel Pro si arriva a un massimo di 16 nel Max a un massimo di 32 ed è qui che c'è la vera differenza perché vi parlavo di operazioni in tempo reale beh perché tutte le operazioni in tempo reale che fanno i programmi ad esempio di grafica 3D sono basati su tutto l'aspetto di GPU quindi della scheda grafica mentre per esempio ci sono gran parte dei motori di calcolo dei software di grafica 3D che basano questo calcolo sulle CPU quindi sostanzialmente avere un Pro o avere un Max non cambia nulla perché i core saranno identici questi sono dei parametri davvero molto sottili che vi devono porre la scelta su uno piuttosto sull'altro io per esempio che mi occupo anche di grafica e sostanzialmente mi occupo di tutto questo mondo della grafica videografica con file anche molto pesanti a volte 8K sempre 4K e 5K RAW qualche volta mi è capitato l'8K avrei dovuto scegliere un Max in realtà io ho scelto per il mio esclusivo utilizzo che è quello di estrema portabilità ma con un po' di potenza un 14 pollici con M1 Pro questa però naturalmente funge da mia analisi sull'utilizzo che ne faccio io di questa macchina cioè per esempio chi utilizza come unica macchina per poter lavorare parliamo di videomaker di 3D artist un po' più difficile ma il videomaker in sé molto probabilmente ce ne sono molti che utilizzano solo esclusivamente il portatile quindi avere una macchina con un processore ancora più potente beh l'ha senso perché parliamo di avere molti più core di GPU e poi fare tutte quelle operazioni che normalmente sarebbero dedicate ad una workstation fissa quindi questo era il riassunto dei dati di questa classificazione ma se io volessi consigliare la mia configurazione beh andiamo per i nostri tre scenari home office beh io consiglio un macbook però da 13 pollici nella configurazione con M1 con 8 core di CPU 8 core di GPU 16 giga di ram e 512 giga nell'SSD lì sull'archiviazione è tutto molto soggettivo quello che do realmente è un consiglio su quello che potrebbe essere un utilizzo perché se pensiamo di fare filmati e di montarli per esempio anche filmati delle vacanze o altro comunque occupano spazio e avremo bisogno di un po' di spazio sull'hard disk di sistema mentre per tutto il mondo chi fa musica chi fa fotografia ma ci mettere anche chi fa programmazione lato mobile la configurazione che consiglio è quella che ho preso io paradossalmente che è un macbook pro da 14 pollici con CPU M1 Pro da 10 core CPU e 16 da GPU con 16 GB di RAM sulla RAM c'è tanto da ragionare per esempio non vi ho detto che nella configurazione precedente ho segnato 8 GB di RAM quindi quella home office mentre per questa music e fotografi ho dedicato 16 GB di RAM e beh ho messo un SSD da 1 TB anche qui per lavorare avere spazio è importante quindi un po' di spazio in più non fa mai male anche se se non sbaglio su questa configurazione 1 TB è il minimo che si può mettere sulla RAM beh c'è tutto un capitolo da aprire la RAM è fondamentale quando si fanno multitasking o quando si devono caricare una serie di informazioni all'interno di una memoria rapida quindi considerata la RAM che serve da interscambio quindi quanta RAM serve per le categorie beh per musica per chi fa programmazione per smartphone per chi fa musica fotografia secondo me 16 GB sono più che sufficienti se vuole star larghi 32 GB ma secondo me 16 GB sono più che sufficienti io con 16 GB ci sto lavorando bene e faccio di più di quello che ho consigliato per questa categoria quindi secondo me questa è la configurazione ideale e qui siamo intorno siamo sotto i 3000 euro di configurazione se non sbaglio 27 28 mentre per la precedente siamo intorno ai 1600 vediamo all'ultima quella dedicata videografia e grafica beh qui naturalmente un MacBook Pro da 16 pollici più grande schema più grande batteria più performante giustamente con qui un M1 Max con CPU da 10 e Core GPU 32 con un SSD da 1TB e 32 GB di RAM ora mi direte ma perché non hai messo 64 GB di RAM? beh perché per come sfrutta per come le macchine Apple sfruttano la RAM 64 sono tanti e sono overkill come 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 prestazioni ci sono casi specifici dove consigliere 64 GB di RAM io ho tutte le altre macchine che hanno 64 GB di RAM e le utilizzo quasi sempre all'80 85% ma su da quando ho visto i processori Apple Silicon sembra che utilizzino una RAM in un modo totalmente differente quando parlo delle altre macchine parlo di macchine con Intel con processori Intel che siano Xeon ho avuto anche degli 9 delle macchine che hanno AMD tutte quante utilizzano per il lavoro che faccio tanta RAM insieme capita a volte sono arrivato a 58 GB di saturazione della RAM quindi 64 sono più che comodi ma come gli Apple Silicon gestiscono la RAM per me rimane astruso quindi un enorme punto di domanda e non saprei non mi va di consigliarne di metterne 64 secondo me 32 sono sufficienti poi ci sono dei casi specifici dove per esempio chi fa modellazione 3D o progettazione di videogiochi belli hai bisogno di caricare enormi texture quindi tante immagini a volte tantissime immagini a 8K e lì carichi tanto la RAM potrebbe arrivare che durante qualche calcolo qualche compilazione per esempio di programmi di software quindi anche la parte di codifica e di coding lì probabilmente 32 GB possono essere giusti al pelo quindi ne servirebbe qualcuno in più ma per il resto per l'utilizzo quotidiano e lavorativo normale secondo me 32 sono più che giusti naturalmente questi sono soltanto i miei consigli e il mio modo di approcciare alla configurazione ma fatemi sapere voi che cosa avete scelto già l'ho chiesto in un altro video già qualcuno di voi mi ha risposto ma voglio sapere adesso rispetto ai consigli che ho dato io voi come li trovate le apprezzate farete una scelta simile o avete fatto una scelta simile o siete andati totalmente controcorrente avete scelto qualche altra cosa fatemelo sapere scrivendomelo qui sotto insomma siamo giunti alla fine di questo video dove vi ho dato il mio parere su come scegliere tra questi tre modelli di Macbook Pro e i tre modelli di processore spero che sia stato piuttosto chiaro e che abbia aperto la mente a qualcuno di voi io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di seguirmi su Instagram per vedere fotografie qualche stories qualche informazione caricata più velocemente insomma cos'altro a dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video